C'è stato tantissimo intervento, è entrato tra i 10 e i 15 cani con le cucciolate, mi pare, più o meno, forse qualche cane più purtroppo. Sono numeri in crescita, quelli degli abbandoni e dei recuperi dei cani e dei gatti da parte dei volontari dell'EMPA di Arezzo che gestiscono il canile Arettino di Via della Cella. Per i cani la stima sarà completa solo dopo il periodo della caccia, mentre per i gatti siamo già ad un centinaio. Un fenomeno che si intensifica come ogni anno nei mesi estivi, ma la piaga degli abbandoni purtroppo non si arresta con la fine della bella stagione. Ci stanno capitando spesso anche casi, oltre che l'abbandono, con problematiche sociali, ovvero persone che hanno dei disagi, che vengono qui, chiedono aiuto. E questo purtroppo sta diventando una cosa un pochino più di consuetudine. Se da un lato aumentano gli abbandoni, dall'altro sono però sempre di più le famiglie che scelgono di adottare un amico a quattro zampe. Sì, sì, quello è sempre. Cerchiamo di fare adozioni consapevoli, specie nel cane lavoriamo tanto sull'adozione. Oggi pomeriggio verrà adottato Ciomba, che è un cagnolino che ha una malattia muscolare, che non voleva nessuno, però è così affettoso che una signora se ne è innamorata e lo adotterà. Chiaramente, ripeto, è molto importante il lavoro dell'adozione. Nel 2017 abbiamo fatto dei numeri molto belli, abbiamo dato via 60 cuccioli e 70 cani adutti e non è rientrato nessun cane. Abbiamo fatto controlli pre, post, affido. E quindi, nel senso, l'importante è lavorare bene sull'adozione.